Domenica che veng, voglio dire che Aduniasse farà la seconda edizione delle Gemme di Luce nell'iniziativa della parrocchia insieme a diverse associazioni ai scuoli, ai asili cioè scuole dell'infanzia più scuola cattolica Don Bosco questo è il programma e come la passa una mostra un'iniziativa che la presenta in diverse associazioni tutte associazioni di volontariato sociale che raccoglieranno dei fondi per loro ma anche per dare poi un'offerta per le iniziative della Caritas Cittadina anche il patrocchia del Comune mentre il pastore di San Paolo VI ha preso l'iniziativa con l'aiuto appunto di altre associazioni ecco, mi scisse vuole fare un giret rispetto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.